Bonansea, va Barbara Bonansea, Bonansea la conclusione, la Juventus ha in vantaggio, Barbara Bonansea, minuto numero 43, un gol strepitoso, strepitoso di Barbara Bonansea. Andiamo a rivedere, palla sul sinistro, la tiene e poi la va a infilare alle spalle di Katrin Abel, basita, che può guardare solamente il pallone andare dentro, si è accesa all'improvviso, ma queste sono le grandi stelle, le grandi giocatrici, sono così. Non è finita, Bonansea, Bonansea, Bonansea con la gran dribbling, Bonansea, Bonansea, Borbara Bonansea, uno slalom incredibile, la doppietta è servita, ma che gol ha fatto, ancora, Borbara Bonansea, 2 a 2. Rivediamo la Bonansea, passa sul posto, 1, 2, va a puntare la Simezke, 3, e palla in buca, gol meraviglioso di Barbara Bonansea, sembrava Alberto Tomba alle Olimpiadi di Calgary.